Buonasera, ben ritrovati nel consueto appuntamento serale di Cusano News 7 con Overland. Vado subito a presentarvi l'ospite che vedete qui in presenza, oggi niente collegamenti Skype, niente problematiche tecniche. Alfonso Perugini, grazie per avermi raggiunto qui in questo studio. Grazie a voi. Alfonso Perugini, diciamo subito che tu lavori, sei operativo nell'ambito dello spettacolo, sei un attore, sei anche un regista, peraltro so che hai in ballo un progetto veramente molto importante, però oggi sei venuto qui su Overland per parlare di un tema che esula dalla tua professione, dalla tua attività artistica. Tu sei autore di un libro, chiedo alla regia se possiamo vedere insieme innanzitutto la copertina. Ecco qua, il muro di gomma, indagine sulla strage di Ustica. Parliamo quindi di un evento letteralmente catastrofico. La data di riferimento che vogliamo subito fornire ai nostri ascoltatori, per chi non lo sapesse, è il 27 giugno del 1980. Allora, la prima curiosità, prima di entrare nel merito di alcuni aspetti significativi di questa vicenda, però prima vorrei chiederti, tu appunto, uomo che vive da arte, di recitazione anche di regia, come è nato il tuo interesse nei confronti di questa vicenda? Per molti aspetti, come avremo modo di chiarire, è ancora piuttosto scura, intricata. Ma guarda Gabriele, da bambino, non so, tu ricorderai, c'era una trasmissione che si chiamava Blu Notte, andava in onda sulla Rai. Condotta dal grande Lucarelli. Esatto, dal grande Lucarelli che una sera, io non prendevo sonno, facevano questa puntata sulla strage di Ustica. Poi io mi accorsi che a casa avevo una videocassetta dell'unità che si chiamava Il muro di gomma, come il titolo della puntata di Lucarelli, e cominciai a vedere questo film, appunto parlando della strage di Ustica, e da lì mi sono appassionato, ho cominciato a leggere, a documentarmi, sempre più negli anni, perché poi comunque negli anni sono un po' comparse delle novità, come è anche esplicato nel libro. Ecco, Alfonso, allora, per fornire qualche altro, diciamo, elemento, qualche altra coordinata a chi è all'ascolto, allora, lo abbiamo detto, 27 giugno 1980. Specifichiamo anche che, parliamo ovviamente di un disastro aereo, l'aereo in questione era della compagnia Italia, partì da Bologna, doveva arrivare a Palermo, eppure questo non avvenne. Allora, innanzitutto vorrei partire mettendo un po' sul tavolo quelle che sono le due grandi tesi, diciamo, ce ne sono tante, avremo forse modo anche di approfondirle singolarmente, però diciamo, anche se ne è parlato molto spesso da Fabio Camillacci, il nostro grande conduttore di crimini e criminologia. C'è chi ancora oggi si dice convinto del fatto che un presunto ordigno esplosivo si trovasse all'interno del velivolo e abbia appunto provocato il disastro, e poi c'è la tesi, invece anzi le tesi, forse è più corretto parlare al plurale, di coloro che ritengono che una sorta di attacco voluto, intenzionale o meno, sia provenuto dall'esterno dell'aereo. Vuoi innanzitutto spiegare, mettere in chiaro quale di queste due iniziali alternative ti sembra la più plausibile, la più probabile? Io nel libro faccio mia la tesi del professor Carlo Casarosa, che è stato uno dei più grandi esperti sull'indagine dal punto di vista peritale sulla strage di Ussica. Il professor Casarosa dell'Università di Pisa ha sempre parlato di una semicollisione, che non vuol dire esattamente ciò che possiamo intendere, però ha anche il missile, quindi sono stati due eventi ravvicinatissimi a distanza non di secondi, ma di frazioni di secondi che hanno innescato non l'incidente ma oserei dire la strage. Il missile è stato, ormai siamo certi, sia stato lanciato da un aereo militare NATO, francese o americano, un po' un controsenso, diciamo, non ha molto senso stabilire se è stato francese o americano, ma sicuramente è stato un aereo NATO ad abbattere materialmente il DC-9 con un missile a risonanza, però allo stesso tempo ho parlato di semicollisione. La semicollisione non è un quasi impatto, non è un quasi contatto con l'aereo, bensì è un effetto fisico che è stato provocato dalla fuga, o meglio dalla manovra di evasione del MIG libico che si nascondeva sotto la pancia del DC-9 ed era il vero obiettivo degli aerei NATO. Non tutti sanno che nel 1980, quando vivevamo ancora la strategia della tensione a livello interno e la guerra fredda a livello internazionale, la NATO non era quella che conosciamo oggi, non c'era la filosofia del tutti per uno, uno per tutti. C'era un padrone, leggi Stati Uniti d'America, poi c'erano due vassalli molto potenti qui in Europa, che erano Francia e Regno Unito e poi c'erano tutti gli altri paesi, tra cui Italia, Germania, che avevano perso la guerra, però stavano dalla parte giusta, stavano nel blocco occidentale. Che succede? Giulio Andreotti, che non ha bisogno di presentazioni, una volta parlando, come al solito, fra il serio e il faceto, come era il suo stile, disse una frase molto emblematica, che noi tra gli anni 70 e 80 avevamo una moglie americana e un'amante libica. Che significa questo? Significa che noi, il nostro governo, il nostro governo permetteva agli aerei libici, quindi uno Stato non allineato con il blocco occidentale, di sorvolare il nostro spazio aereo, mentre questi aerei si regavano a Bagnaluga, nella ex Jugoslavia, per fare manutenzione e rifornimento. Ovviamente passare sopra l'Italia, sopra il Maltirreno, è un passaggio obbligatorio. Esatto, peraltro ricordiamo appunto che l'area marittima del Tirreno del Sud era teatro molto spesso di esercitazioni, nato dal punto di vista territoriale, quindi anche questo assume una grande importanza. E vorrei chiederti, sempre restando all'epoca, al 1980, lo hai ricordato? Un periodo per certi versi distantissimo da quello che viviamo oggi, molto diverso. Lo stesso 1980, nel mese di agosto, il 2 agosto, ci fu la strage di Bologna, un altro caso che ovviamente carpì l'attenzione di tutti per ovvie ragioni. Ma per quanto riguarda coloro che invece rimasero vittime di questo terrificante incidente, di questa semicollisione, come tu l'hai definita? Impatto da missile più semicollisione, perché l'effetto blast che produce un caccia militare passando da un regime subsonico a un regime supersonico in brevissimo tempo produce il famoso boom sonico. Questo enorme spostamento d'aria produce di fatto una semicollisione, un'autentica esplosione d'aria che produce anche gli effetti della semicollisione oltre a quelli del missile. Ecco, e ricordiamo peraltro che non tutte le vittime di questo incidente sono state recuperate a livello di... No, nemmeno la metà. Nemmeno la metà. Se non sbaglio, correggimi ovviamente se sbaglio, parliamo di 80 vittime nel... 81 vittime e sì, appunto 39, comunque meno di 40 salme sono state recuperate. Ma per quanto riguarda quelle che sono state analizzate, fin da subito furono disposte alcune autopsie, ecco, è emerso qualche dato effettivamente rilevante dal tuo punto di vista? Ma guarda, anche ci sono stati tanti depistaggi, anzi a partire dalle autopsie dei corpi ritrovati nel subito dopo, i pochi che sono riaffiorati dal mare, ci sono stati dei depistaggi. Quello che sappiamo oggi è che ovviamente la morte è avvenuta per due motivi sostanzialmente. La prima è una rapidissima decompressione, quindi l'aereo si è squarciato in volo, si è aperto quindi a 27.000 piedi per disensi e poi cause da impatto o da esplosione esterna, quindi missile. E questa è una delle tante prove schiaccianti che dice che non è stata una bomba. Ecco, e peraltro tu parlando appunto di Nato, di Libia, di Stati Uniti hai anche chiarito molto bene la ragione per cui abbiamo deciso appunto di approfondire qui su Overland questa vicenda. È un disastro italiano, si è verificato in Italia, però parliamo di una vicenda da respiro nettamente internazionale. È una vicenda di cui probabilmente si continuerà a parlare se non per sempre comunque ancora per moltissimi anni e ci sono stati, vero Alfonso, diciamo degli aggiornamenti in epoca anche molto recente. Facciamo riferimento al 2014, vero? Sì, esattamente. Il 2014 è stato un anno molto importante per la strage di Ussica perché per la prima volta si è aperto uno spiraglio a livello politico. Tutto ciò che noi sapevamo fino al 2014 era frutto di indagini giudiziari, ovviamente, di inchieste, inchieste giornalistiche, collegi peritali, ma la politica è sempre stata zitta sull'argomento Ussica. Poi nel 2014 il governo Renzi, con un grande atto di coraggio, decide di aprire molti degli armati segreti rendendo anche pubblici molti documenti su Ussica. Non solo su Ussica vennero declassificati i documenti sulla strage di Bologna, sulla strage del treno Italicus, insomma tutti quei misteri italiani che sono stati avvolti nell'ombra per tanti decenni ormai, anni e non si può riduttivo. Quindi nel mio libro in Appendice si trovano molti di questi documenti più significativi, è una selezione perché ovviamente parliamo di centinaia e centinaia di pagine, però quelli che io ritenevo più significativi sono inclusi nell'Appendice. Sono molto interessanti perché raccontano, fanno una bella fotografia di quello che era l'Italia e la sua situazione geopolitica prima e dopo la strage di Ussica. Ecco, a questo proposito vorrei anche ricordare che pure tra coloro che non avallano affatto la tesi dell'ordigno interno al velivolo c'è chi anche, come dire, mette in discussione la tesi del disastro contestuale ad un'esercitazione NATO, c'è chi fa riferimento anche alla possibilità di un attacco terroristico, non a caso prima si citava la strage di Bologna. Tu come valuti a livello di credibilità questa tesi? Ma non la, allora, almeno nel 1980 poteva essere, almeno nell'immediatezza, un'ipotesi plausibile, d'altronde c'erano stragi, attentati, ravimenti quasi ogni giorno. Noi non li abbiamo vissuti ma i nostri padri sanno che cosa vuol dire vivere a cavallo degli anni 70 e 80. Ci fu anche un depistaggio, i NAR rivendicarono anche debolmente la strage dicendo che c'era un loro affiliato, poi pentito, tale Marco affaticato che doveva essere punito e quindi i NAR volevano cogliere due piccioni con una farama, è una tesi che non sta né in cielo né in terra. Ed è stato appunto dimostrato anche nei processi fioravanti il capo dei NAR ha sempre negato tutto. Ne sono emersi sviluppi in questo senso. Anche perché insomma immagino che volendo, come dire, seguire l'eventualità, la possibilità della pista del terrorismo politico bisognerebbe anche immaginare, come dire, dei gruppi anche attrezzati a livello proprio materiale per poter procedere nel determinare, insomma, una strage in volo. Beh certo, ci vuole parecchia di quella che noi oggi chiameremo intelligence, non solo nel farlo ma nel pensarlo e nel progettarlo. Almeno di questo i NAR, di questo non sono colpevoli, poi di tutto il resto, di molto altro, certo. Di molto altra cui Bologna. Infatti ecco, peraltro il tuo libro mi ha molto interessato perché c'è la terza parte che tu hai deciso di dedicare a un tema che noi affrontiamo spesso, soprattutto su Filo Giallo, che è la rubrica del martedì pomeriggio dedicata appunto alla cronaca giudiziaria, ossia il rapporto, il legame, che a volte sconfina anche nella morbosità gratuita, tra eventi di cronaca, eventi anche tragici che hanno delle ripercussioni in tribunale e fuori dal tribunale e narrazione mediatica, il modo in cui i fatti vengono appunto raccontati, vengono riportati al pubblico. Delle volte insomma ci sono anche delle manifestazioni quasi di pornografia del male, no? Ecco, siamo nel secolo in cui questo anche capita e può riscuotere successo. Ma tornando ancora un po' indietro negli anni e nei decenni, tu che giudizio ti senti di dare complessivamente sul modo in cui fin dalle immediatezze che tu hai attentamente ricostruito, la strage di Usti che è stata raccontata e ricostruita da stampa e media dell'epoca? Io mi sono fatto l'idea di un puzzle di mille pezzi. I mille pezzi non sono tutti reperibili, ne troviamo qualcuno ogni tanto e lo mettiamo al posto giusto. Diciamo che se questo puzzle è fatto da mille pezzi, noi oggi ne abbiamo 850-900, quindi non abbiamo tutta l'immagine precisa, però capiamo il come, il perché e soprattutto lo sviluppo. Quindi è una fotografia con qualche pixel mancante che però riusciamo a capire cosa rappresenta. E colpisce anche un po' la scelta di questo titolo, Il muro di gomma. Gli appassionati di cinema forse avranno pensato subito al film di Risi del 1991, però in realtà io so, Alfonso, che dietro questo titolo c'è anche qualcosa in più, vero? Beh, allora, Il muro di gomma non nasce con il film di Marco Risi del 1991, sebbene il film sia stato poi, è diventato quasi un ritornello, ogni volta c'è un mistero si dice ah, muro di gomma, si dice ah, è un muro di gomma. È un'espressione giornalistica che, come anche scrivo nel libro, nasce attorno al 1984-85, quindi dopo qualche anno dal 1980 quando cominciavano a non avere le vittime, la stampa, i giudici, non riuscivano ad avere notizie, non riuscivano ad avere sviluppi da chi doveva dare delle risposte, quindi tutte le domande che venivano scagliate verso il vuoto rimbalzavano verso chi faceva questa domanda. Da qui nasce l'espressione giornalistica muro di gomma. Ecco, e oltre alla data di riferimento appunto del 1980, anche gli anni successivi comunque dal punto di vista investigativo, dal punto di vista dei depistaggi, anche furono assai rilevanti, tutto ciò comunque è ben espresso nel tuo libro, che è veramente una fonte notevolissima e che invitiamo tutti gli appassionati di queste tematiche a leggere, insomma, per poter approfondire in maniera adeguata, in maniera molto analitica, un tema ancora oggi circonfuso dal mistero più totale e torniamo sul rapporto tra politica e strage di ustica, in questo caso non politica contemporanea, prima abbiamo fatto riferimento alla scelta del governo Renzi, a livello di commissioni parlamentari, cosa fu fatto e soprattutto secondo te fu fatto abbastanza? Beh, allora, la commissione parlamentare stragi non indagava solamente su ustica, indagava su tutti i famosi misteri d'Italia, vennero istituite due commissioni stragi, la prima venne presieduta dal senatore Libero Gualtieri e rimase in carica dal 1989 fino al 1994 ed ebbe un grosso impatto all'inizio perché era la prima risposta seria della politica che cercava di indagare al proprio interno. Dopodiché, dopo il governo Berlusconi 1, la commissione venne reistituita con un'altra legge ordinaria e venne presieduta dal senatore Giovanni Pellegrino, che tra l'altro intervisto nel libro, che racconta un po' come si svolgevano questi lavori. Lui mi confessò all'epoca che per problemi anche di numero legale purtroppo la commissione non poteva spesso aggiornarsi, non solo per la strage di ustica, ma anche per inconvenienti tecnici, cattiva calendarizzazione dei lavori e quant'altro. Però vennero interrogati generali, vennero interrogati giudici, politici, tutti coloro che potevano sapere anche uno spillo della vicenda, vennero interrogati. Da questo punto di vista, sia la commissione presieduta da Gualtieri, sia quella presieduta da Pellegrino, fecero un eccellente lavoro, nonostante tutte le grandi difficoltà. Adesso la commissione stragi, come ben sai, non esiste più. Non c'è più. perché deve essere reistituita, ma non viene più promulgata. Ecco, quindi diciamo che ci sono stati dei contributi effettivi, nulla è stato trascurato, eppure in ultimo il depistaggio. I depistaggi sembrerebbe che abbiano prevalso. Beh, per un certo tempo sì, ci sono stati molti depistaggi, da qui anche l'espressione il muro di gomma. C'è stato un processo lunghissimo a quattro generali delle forze armate, dell'area unatica in particolare, che due di questi sono stati anche condannati, che appunto hanno di fatto fatto prendere vie totalmente vuote da quelle che dovevano essere le indagini. per esempio, ecco, ritornando alle commissioni, c'è un intervento di un colonnello dell'aeronautica che nega l'evidenza leggendo i verbali. Tra l'altro sono pubblici, quindi tutti li possono leggere. Ancora a distanza di parecchi anni portava la tesi della bomba che era insostenibile ormai. Quindi c'è stata molta reticenza da parte delle forze armate, in particolar modo dell'aeronautica. Bene, allora Alfonso, sono veramente molto contento di aver approfondito in tua compagnia questa tematica che ancora oggi suscita dibattiti a volte veramente molto aspri. Insomma, ho visto anche confronti di varia natura dove si spregano delle volte anche parole di un certo peso. Allora, ripetiamolo a chi è all'ascolto. Chiedo alla nostra magnifica regista di mandare di nuovo l'immagine della copertina del tuo libro. Ecco, eccolo qua. Il muro di gomma, indagine sulla strage di Ustica, per chiunque voglia approfondire questo tema. Io ti ringrazio veramente di cuore Alfonso Perugino di essere stato qui in nostra compagnia. Spero di ritrovarti presto. Magari i subabbele per parlare anche un po' della tua carriera artistica e delle tue... So che ci sono anche grandi soddisfazioni. Avremo modo. Avremo modo. E soprattutto grazie a voi per essere rimasti all'ascolto. Noi salutiamo il nostro ospite, però mi raccomando voi non cambiate canale perché subito dopo la puntata di Overland prosegue. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.